Merda montana Amore grandissima che c'è da fare ragazzi ascolatemi ragazzi è stata durissima questa sfida ma ce l'ho fatta potrai anche magari poter scappare ma voglio portare a tutti i due cittadini ok ragazzi stiamo stendo il video la sua vita è stata durissima Sì questo è un po' di me Perchè si è stato l'amore Perchè si è stato l'amore Perchè si è stato l'amore Allora Il mio obiettivo è la città Non aiutare la città Perchè si è stato l'amore Damiain Conversazione in palazzi Recordo di nuovo I tuoi amore Non prendono la città Ascolto il voce con il suo amore MEN! Tend to the wounded, and prepare to march out! I'm doing the right thing. The other side bows. That's what you want to use against vampires. Your alchemists order them to produce as much vampire oil as they can, churn it out in gallons, then coat your blades with it. Keep an eye out for Alps and Bruxelles. The shapely ones resemble women. There, one moment, on the next. Bones containing silver splinters are a pretty good idea. Thank you, Witcher. I hope you're worth a coin the Duchess pledged you, and that you'll return with the head of the wretch that did this, skewered on a hulk. That vampire is my, my darling. On the high level, leave it to me. Your problem's my problem now. Leave it to me. I'll solve it. How? All I can say just now is I'm gonna need Sienna. You know the Duchess's decision. Sienna awaits her trial, in custody. Yeah, I know it. Doesn't mean I have to agree with it. Youth, that luxury. I do not. I've sworn my loyalty to her grace. You know the Duchess. The Duchess's decision is the only one person. Folk are dying. Many more will, because of one. If her grace learns I helped you, my head will roll. And mine will come right after. Still willing to take the risk. Sienna is wasting my time here. Wait! I'll wait. When? When last I saw Sienna, her grace was escorting her to the palace play room. Play room? As in for children? He's not sure. I served the palace for years. I know it's every corner. So yes, I'm damn sure. Playroom? So what? Duchess locked Sienna up in a dollhouse? Scusate, non ho capito. Guarda, ho detto che ho visto. Ciò che faccio con questo non è un problema di me. Ok. Ho capito. L'Amba è arrivato. Tu arrivi al vostro barraco. Tu tracciai i miei passaggi. I pensi che sia chiaro. Ho un signo, Regis. Non mi chiedi. Io ho detto, Regis. Parla con i cieli per far sapere a Regis dove mi incontrirei. Ti dimentichi a Regis che mi metti nel palazzo. Abbiamo bisogno di andare in la giocattina. Ok. Mi incontri a Regis a palazzo. Ah, non è la quale che è stato sotto perché ci sa, effettivamente. Non posso vedere quella. Vabbè, facciamo veloce in veloce. Sperando di non riconcare. Sono una bestia. Guarda, io. Non si può ascoltare, dai. Lo so, ragazzi, in tutto sommato sto facendo in maniera molto, diciamo, molto attenta di dettagli, di sanzione, perché mi sembra giusto dedicarvi a una sanzione. Nel senso, non posso parlare di fretta, non parlando di dolce, non parlando di bene. Vedre giusto, o no? Che stai? Possiamo andare, ragazzi. Non si può essere tutto. Non si può essere. No, non si può essere. Non si può essere. Ah, non si può essere. che bella eh, adesso è parecchio il mio fuoco allora, papà scusiamo tutti i ragazzi che queste cose vanno fatte ok ragazzi e poi c'è un altro e poi c'è un altro beccato stavo dicendo questo si fa più facilmente oh ma devi assai più facilmente ecco il punto di idea del trasporto ci siamo ragazzi ecco Regis non lo so 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 Ok, ok. No, no, at all. Apri da dentro. Ecco, ecco. Thanks, at your service. Bellissima Regisora, levati un po' da davanti le palle. Utter silence, no one here. Uscito che l'ha richiesto. Tanta lunga argentana. Se sei una stanza dei giovani, vedete già la presa. Allora, un attimo solo che mi ditero di un po' di roba. Ok. Questa sicuramente ci servirà. Ok. Ok. Miniature tableware. And plush toys. Cute. Nothing under the carpet. Did you expect something? Apart from the dust, swept under there by a lazy chamber made. Ok. Non è nell'armario, aspetta. Diario. Allora. 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 questo che è un libro, apri un portale e treci una magia I tutored the girls in Nilfgaardian today Sianna applies herself so though she has great difficulty memorizing new vocabulary Lady Anna Rietta seems more gifted in this regard yet also prone to impish behavior when she thought me out of earshot she called me a ludacusa she and Sianna laughed so hard they almost choked hmm blood air is damned or cursed what's cusa? in the melodious tongue of our non too friendly names to the south the word describes the many petaled flower that blooms in that place we sell all melodious and cruel the crotch ok abbiamo le tussle ligno realize this might sound improbable but maybe, just maybe Anna Henrietta tossed Sianna into that illusion not impossible she will be safe there and isolated we must see tra il capito in situ lie verso il capito in totale il capito in totale le fihabbe dico questo c'è il capito che ho da niente ma qui c'erano un libro e qui c'è un libro vide c'erano un libro e io adesso quello che ho detto che erano in l'armario eccolo qui ci siamo ragazzi siamo per entrare in un'illusione forse bisogna dire la parola ci siamo what the fuck missione completata così regis regis mi sa che ci siamo dei trasportati davvero davvero incredibile allora ragazzi intanto la missione è aggiornata l'intero mondo è un'illusione allora direi di salvare allora 3 agosto 31 luglio allora questa qua ancora me la tengo perché voglio fare anche allora allora Grazie a tutti.